Se la HR-V vi sembra troppo piccola e la CR-V troppo grande, beh la Honda potrebbe aver fatto la macchina che fa per voi. Si chiama ZR-V, eccola qua, è blu elettrico e noi l'abbiamo portata sulla nostra pista per metterla a dura prova. Come al solito, perché vabbè, i pregi quelli ve li stanno a raccontare tutti, ma noi qui vi raccontiamo anche i difetti. Li trovate scritti in maniera chiara, senza giri di parole, in fondo al video, insieme a tutti i nostri voti da 0 a 10 del nostro pagellone. Abbiamo scatenato l'ingegnere e allora incominciamo. E va bene, se proprio non vi va giù l'idea di prendere una macchina eccezionale come la Honda Civic, quindi la tradizionale segmento C, quasi una sedan coupé, e vabbè, la Honda vi ha accontentato e vi ha fatto la sua variante crossover, che è questa ZR-V. Inutile dire che io prenderei la classica Civic, ma se mi piace la guida alta, tutti i costi, l'idea di avere un subettino compatto, e vabbè, eccovi accontentati. In ogni caso c'è anche una buona notizia, perché effettivamente questa ZR-V eredita anche l'ottima piattaforma della Honda Civic da cui deriva. E questo ha portato tutta una serie di conseguenze positive sulla dinamica di guida, e non solo, come vedremo in questo pro e contro. Un'auto a marchio giapponese, globale, sapete che ormai Honda cerca di fare pochi modelli, ben determinati, da vendere poi in più mercati possibili in giro per il mondo. Questo comporta anche il fatto che, per rispondere alla domanda, occorra produrre poi la ZR-V in tanti stabilimenti, non solo in uno. Quindi è sì prodotta in Giappone, ma c'è anche un altro stabilimento in Cina che sforna altri modelli identici, ed è il caso del nostro esemplare, che è arrivato qui in Europa, prodotto proprio nel paese che ha per capitale Pechino. Le concorrenti sono tantissime, perché ormai tutti i costruttori devono per forza avere, almeno se vogliono vendere delle macchine, un SUV compatto di segmento C in gamma. Ve le mostro tutte in grafica, moltissime le abbiamo provate qui nei pro e contro, quindi avremo una serie di dati preziosissimi da mettere a confronto, cosa che facciamo solo noi qui ad automoto.it. Giusto un accenno ai prezzi, poi come sempre ci torniamo in maniera dettagliata in fondo alla prova dell'apposito capitolo. In ogni caso, come capita per tutte le onde di ultima generazione che abbiamo provato, con motorizzazioni ibride, i prezzi partono da cifre piuttosto importanti, in questo caso da ben più di 40.000 euro. 4,57 m di lunghezza significa che siamo esattamente a metà strada tra i 4,34 della compatta HR-V e i 4,70 della CR-V. Comunque in generale è una SUV di segmento C bella abbondante nelle dimensioni. Voi tenete sempre a mente che una Tiguan, giusto per darvi un termine di paragone, è 4,5 m. In ogni caso abbiamo un design piuttosto pulito, semplice, anche se secondo me perde un pochino di personalità rispetto per esempio alla Civic o alla stessa HR-V, che invece avevano uno sguardo più definito. Qui abbiamo un design più morbido, diciamo. Una grande bocca anteriore, forse troppo, me lo direte nei commenti. Fari ben fatti, però la sostanza qui c'è tutta, sullo stile potremmo star qui a disquisire fino a dopo mezzanotte. Però guardate, i gruppi ottici sono full LED, anche loro belli personali con una firma luminosa semplice ma caratteristica. Tantissimo piano black, è una finitura che non piace né a me né all'ingegnere, qui la ritroviamo su tutta la calandra e anche nella zona bassa. Io l'avrei cercato di limitare il più possibile. Prese d'aria poi ne troviamo due piccoline laterali che però sono effettivamente degli sfoghi d'aria reali, quindi funzionali. Portatarga a misura delle targhe tedesche e europee non tiene conto di quelle italiane. Anche dietro forse non troviamo un carattere così marcato come quello di altri modelli della famiglia Honda, però le cose importanti ci sono tutte. Fari tutti interamente a LED e poi guardate, doppio terminale di scarico cromato, reale, visto che dentro c'è davvero lo scarico. Una notizia in un mondo di crossoverine che si divertono a mettere terminaloni poi pieni, finti, in plastica, che sono sempre un po' tristi secondo me. Anche qui però tanto piano black, secondo noi troppo. Tutto il paraurti posteriore usa questa finitura che è molto delicata, è molto sporchevole. L'analisi qualitativa del nostro ingegnere non mente mai perché è molto scrupolosa. Questa Honda fa la Honda, cioè un'auto che generalmente per la categoria, la fascia di prezzo, è ben costruita, ben assemblata. Le fughe non sono tra le più strette e rastremate che abbiamo visto qui ai pro e contro in questo mondo di crossover di segmento C, però sono piuttosto costanti, ben fatti. C'è anche in questo caso tanta sostanza. Qualche virgola fuori posto l'abbiamo trovata, come per esempio nella zona del portellone dove le fughe non sono sempre omogenee, qui per esempio è più larga e sotto si stringe. Stessa cosa nel cofano anteriore, però globalmente un'auto ben costruita di sostanza. Ma siamo alla nostra prova portiera, vediamo anche lei cosa ci dice. Un suono bello vattato, in questo caso sorprendente per la fascia di prezzo, perché non è per niente secco, di legno come si dice un po' in gergo. Le guarnizioni sono infatti ben fatte, quella principale non è particolarmente spessa, carnosa, anche se è a soffietto su più livelli, ne troviamo poi un'altra, in questo caso davvero ben eseguita su tutto l'intero perimetro dello sportello battente, più quel lembo supplementare che mi va ad agire sul brancardo. Risultato davvero encomiabile. Dentro il giudizio dell'ingegnere è molto simile a quello che ha redatto con le ultime onda che sono passate per le sue grinfie. Quindi non sono sontuose, particolarmente ricercate dal punto di vista dei materiali, ma badano al sodo e ciò che è più esposto è ben fatto, sono stati furbi. Quindi le zone lontane dagli sguardi sono in plastica dura, come qui la palpebra sopra il cruscotto, però poi la zona più esposta della plancia è rivestita in materiale soft touch con impunture a vista. La scena poi è dominata da questa griglia nido d'ape senza soluzioni di continuità che contiene le bocchette di ventilazione regolabili, l'abbiamo già vista su Civic e anche su CR-V, fanno un bel figurone e sono anche piuttosto funzionali. Tunnel centrale qui un pochino più originale ma anche controverso perché abbiamo lo spazio per lo smartphone con ricarica wireless, due bei portabibite ampi, una plancetta per la selezione della modalità di marcia e poi qui sotto un ponte con ulteriori comandi ma un altro vano piuttosto originale col fondo gommato, quindi anche in questo caso ben fatto. Ancora meglio perché poi abbiamo due prese USB, una classica, una Type-C, quindi ce n'è per tutti i gusti, con uno spazio proprio dedicato a mettere gli smartphone anche in formato monstre, visto che ormai ci piace andare in giro con delle piastrelle in tasca. Attenzione ci sono poi comandi del clima classici, con le ghiere, i bottoni, mi viene da piangere su un'auto nuova, meno male che li hanno salvati perché li troviamo comodissimi, insostituibili e voi tenetevi le vostre superfici touch che la mia ghiera zigrinata non me la batterete mai, volante di giusto dimensionamento, bello da impugnare in pelle, con cucitura vista, razze piccoline non come quelle della Subaru che sono gigantesche, con pochi comandi disposti in maniera organica trasmettono tutti una bella idea di solidità, di qualità quando li andiamo ad azionare, quindi magari non avremo la finitura più alla moda ma poi i comandi, le ghiere, i pulsanti sono tutti proprio che stanno di onda, cioè ben fatti. Così come i paddle in alluminio, qui solidali alle razze del volante, i primi paddle in alluminio che arrivano su una onda in stile crossover. Pannello porta anche qui, semplice, senza particolari guizzi ma di fatto solido, ben fatto. Materiale un po' rigidino nella zona alta ma dove poi andiamo a mettere il braccio è tutto soft. Tasca però per gli oggetti fin troppo piccola, ci sta solo la bottiglietta e non è floccata, non è rivestita, non ha neanche il fondo in gomma, forse qui si poteva fare di più. Sellerie molto classiche che puntano soprattutto al comfort e direi che ci riescono alla grande visto che non sono troppo esasperate e riescono ad accogliere corporature un po' di tutti i tipi. La pelle è di pregevole fattura, piuttosto morbida. Le regolazioni del sedile sono elettriche sulla mia versione, chiaramente siamo su un crossover e quindi si viaggia un pochino più in alto rispetto a una Civic ma è quello che cerca chi vuole un'auto di questo tipo. Si viaggia a una sessantina abbondante di centimetri dal suolo, un valore tipico per un SUV come si evince dai dati delle concorrenti in grafica. Solo la Formentor con la sua impostazione più da crossover che da vero e proprio sport utility riesce a offrire una seduta un pochino più bassa e quindi più sportiva. Per capire se è un'auto spaziosa in relazione agli ingombri abbiamo scatenato il nostro ingegnere con il suo metro laser, ha misurato tutto in lungo e largo ed ecco il verdetto. I valori vanno interpretati tenendo presente che la ZRV è la più grande rispetto alle concorrenti prese in analisi. Infatti pur essendo un SUV di segmento C supera di slancio i classici 4,50 m e quindi non è un caso che riesca ad offrire un abitacolo super spazioso, in generale più ampio rispetto alla maggior parte delle competitor dirette. La cosa più bella di questo abitacolo è che il pavimento dietro è quasi completamente piatto, non c'è il tunnel, quindi anche nella remota ipotesi in cui qui si debba ospitare un quinto passeggero questo viaggerà in maniera un po' meno sacrificata e un po' meno penalizzata rispetto a molte concorrenti. Certo è che il quinto sedile è comunque più stretto, più corto, deve fare i conti con il bracciolo, quindi comunque è meglio viaggiare in quattro. Ci sono bocchette di ventilazione regolabili, non tutte le concorrenti le hanno, e due prese usb supplementari per chi sta dietro, ben fatto, lo spazio per ficcare i piedi sotto al sedile è abbondante, quindi si riesce a fare senza problemi questa operazione, gli sportelli non si aprono proprio a 90 gradi, peccato, anche perché non sono grandissimi e l'accessibilità ne avrebbe giovato. Ci sono attacchi isofix ma del tipo più tradizionale, quindi con l'attacco annegato un po' nell'imbottitura del sedile, quindi non sono molto esposti, non così facili da raggiungere. Pannello porta, ricalca perfettamente quello davanti, materiali rigidi, croccanti, nelle zone lontane dal braccio, mentre poi nella zona centrale soft touch ne troviamo in abbondanza. C'è un tetto panoramico sul nostro esemplare, ma ha un elemento portante in mezzo, quindi non è senza soluzioni di continuità. Le auto full hybrid alternano momenti di grande silenzio, quando si viaggia in elettrico puro, ad altri in cui le cose cambiano quando attacca il termico. Vediamo questa ZRV come si è comportata nel nostro test di insonorizzazione perché ai decibel non si può mentire. Quando si viaggia in elettrico chiaramente regna la massima silenziosità, ma quando attacca il termico il suo intervento è ben avvertibile pur non risultando mai troppo invasivo. Ci sono concorrenti come la Formentor che fanno filtrare in abitacolo ancora più rumorosità, ma anche alcune come la Tiguan che risultano meglio insonorizzate. Grazie alla meccanica nobile della Honda Civic questa ZRV ha guadagnato uno schema sospensivo molto ben fatto, è per un crossover, quindi dietro abbiamo multilink, sospensioni indipendenti davanti al classico MacPherson, ma non tutte le concorrenti possono vantare uno schema di questo tipo così nobile che per di più in questo caso si traduce anche in una capacità di sforzamento davvero molto buona. I cerchi non sono così spropositati, 18 pollici con una spalla piuttosto generosa, meno male perché anche quando si viaggia a pieno carico si riesce a continuare a stare comodi anche sulle asperità più dure, più importanti, più secche. Apertura elettrica per il portellone non male, almeno sul nostro allestimento, ed ecco qui il vano per sapere quanta roba ci sta davvero, non con le promesse della casa, noi abbiamo rimisurato tutto da capo con il nostro ingegnere il suo metodo infallibile ed ecco cos'è venuto fuori rispetto all'otto dichiarato. I litri reali misurati dall'ingegnere sono 360, una manciata in meno rispetto a quelli dichiarati, che per una volta non sono lontani anni luce dalla realtà. In assoluto però il risultato non è strabiliante, considerando il fatto che la ZRV è pure quella con gli ingombri più abbondanti rispetto alle concorrenti prese in analisi in questa prova strumentale. Impressionante il risultato della Tiguan, più corta di 7 centimetri, mette a disposizione, nella peggiore delle ipotesi, visto che ha il divanetto scorrevole non previsto sulla Honda, 70 litri in più. Un vano che ci accoglie bene, perché la soglia è un po' più alta rispetto a una classica segmento C, siamo su un crossover, però non c'è alcun tipo di gradino. Il vano è quindi completamente piatto. Bene il fondo in moquette, meno bene i fianchetti che sono in plastica croccante, dura come direbbe Emiliano, col tempo caricando e scaricando, rischieranno sicuramente di graffiarsi. Qui c'è il subwoofer a destro, perdiamo questa nicchia che invece c'è a sinistra e dove hanno ricavato un piccolo spazio per mettere il kit di riparazione pneumatici. Attenzione poi che se squarciate la spalla dovete chiamare il carro attrezzi quindi. C'è un doppio fondo ma è molto limitato, piccolo, ci sta solo il kit di emergenza con il triangolo, quindi di fatto poco sfruttabile. Luci di cortesia, due a led qui nel vano ma ne abbiamo altre due supplementari sul portellone che illuminano la zona di carico, davvero incredibile, ben fatto. E poi frazionamento dei sedili ultraclassico, forse troppo, 60-40, quindi manca la botola per gli oggetti passanti lunghi, peccato. Se andiamo ad abbattere comunque tutti gli schienali abbiamo un vano di carico quasi completamente piatto. La prova con le valigie cinesi passa dalla teoria dei litri alla pratica della quotidianità e dimostra che il vano della ZRV considerando segmento e dimensioni esterne non è strepitoso. L'ingegnere è riuscito a caricare soltanto tre valigie di cui una di grandi dimensioni, oltre a due borsoni e uno zainetto, un po' poco per un'auto da famiglia pensata anche per i lunghi viaggi a pieno carico. Tutta l'impostazione generale ricorda da vicino, paro paro, quella della sua sorella, quindi la Civic. Abbiamo un sistema multimediale in stile tablet, in posizione rialzata con un bel pannellino da 9 pollici, non è enorme ma secondo me bastano e avanzano nella vita di tutti i giorni. Un sistema che non vi farà strappare i capelli e non vi farà gridare al miracolo per effetti speciali o particolarmente pirotecnici originali, ma tutto quello che serve per poi cavarsene nella vita di tutti i giorni. Prima di tutto una bella ghiera per il volume, che so che sembra la scoperta dell'acqua calda, ma ormai non ce la mettono più sulle auto e quindi quando c'è io grido al miracolo. E poi degli shortcut fisici, quindi dei bottoni che non guassano mai, ve lo dico sempre. Poi abbiamo un sistema molto basico, forse potrebbe migliorare un pochettino nella risoluzione, il pannello è ben luminoso e ben contrastato però la risoluzione non è perfetta, secondo me la risposta al tocco è soddisfacente. In ogni caso io ho preferito rimanere negli ecosistemi Apple CarPlay ed Android Auto. Attenzione che Android Auto va solo e soltanto col cavo Apple CarPlay anche in modalità wireless. C'è poi una strumentazione, il pannello anche in questo caso non è gigantesco, 7 pollici ma fa il suo dovere egregiamente, perché le animazioni non laggano, sono belle fluide, ben contrastato, luminoso, la risoluzione sì qui è ottima, tutte le informazioni sono ben distribuite nei due quadranti in maniera chiara e anche elegante dal punto di vista grafico. Mi ricorda un po' la sensazione che ho provato consultando la strumentazione delle ultime Mazda. Ci sono poi gli indicatori per lo stato di carica della batteria del sistema ibrido e del carburante classici ai lati, forse si poteva fare un pannello un pochino più grande che prendeva l'intera larghezza del cruscotto ed embeddare queste due informazioni nel pannello, però stiamo proprio cercando il pelo nell'uovo. Tutte le informazioni che ci servono si trovano bene al primo colpo e sono dislocate in maniera chiara. Sistemi di assistenza alla guida, nessuna nota stonata, abbiamo una guida assistita piena di livello 2 che funziona in maniera buona e i sistemi non sono troppo invasivi, quindi non si finisce per escluderli perché poi danno fastidio nella vita di tutti i giorni. Il powertrain di questa Honda ZR-V è identico, stava san dir, a quello della Honda Civic, quindi abbiamo sostanzialmente un ibrido in serie, la Honda lo chiama E-Hev e lo abbiamo già apprezzato su tanti modelli. Qui abbiamo un 2 litri aspirato come motore termico da 143 cavalli, ma i cavalli che ci interessano poi sono quelli del motore elettrico di trazione, che sono 184, ben di più. Questo perché alla fine il termico a benzina, quattro cilindri, funziona essenzialmente quasi sempre come un generatore. Va a generare cioè quella energia elettrica che serve poi a sfamare il motore elettrico, che è lui e solo lui a far girare praticamente sempre le ruote anteriori. C'è chiaramente poi una piccola batteria tampone che ci serve a recuperare l'energia in frenata e a stoccare quella che ha generato il motore termico. Ho detto praticamente sempre perché effettivamente alle velocità autostradali, quindi i classici 130 sulle highway italiane, attraverso una speciale frizione, il termico entra in questo frangente, sì, direttamente in collegamento con le ruote anteriori. Quindi in questo caso, solo in questo caso, sono i pistoni a far girare le ruote. Ma in tutti gli altri casi è come guidare di fatto un'elettrica ricaricata dal termico. Il vantaggio di un sistema simile rispetto a un ibrido in serie è che si viaggia molto di più in elettrico. Quella idea di elasticità tipica degli ibridi fatti bene, cioè di quelli che intervengono in maniera preponderante, pertanto qui è ancora più accentuata. Certo, a un certo punto attacca il termico, ma lo fa a regimi piuttosto costanti. Se si viaggia in suplesse, mai in maniera troppo invasiva. Se invece andiamo a fare i kickdown, comunque l'effetto scooter dei sistemi ibridi in parallelo, per esempio quelli di Toyota, è mitigato perché qui c'è la simulazione di una cambiata che effettivamente non avviene mai, visto che il cambio manco c'è. C'è un riduttore, proprio come sulle auto elettriche, a rapporto fisso. Però il regime cambia, ci simula delle cambiate e questo rende un po' meno sgradevole no? Quell'effetto trascinamento, quell'effetto CVT che troviamo su altri tipi di ibride. Abbiamo tanti cavalli poi, 184, vediamo come si traduce questo ibrido così particolare in serie a livello di prestazioni con i nostri test strumentali. Quindi io mi fermo, metto nella modalità di guida più sportiva, sport, giapponesi non sono mai particolarmente originali, ma un bel giututto non glielo leva nessuno. Facciamolo insieme, via! Parte a stecca perché effettivamente è il motore elettrico che dà trazione e quindi c'è grande immediatezza nello spunto, poi attacca il termico che ci deve dare tutto quello che ha con questa simulazione di cambiata e i numeri. La ZR via ha impiegato in media 8 secondi e 3 per completare la prova, un risultato superiore di 4 decimi rispetto al dichiarato. In generale comunque il risultato è molto buono per la categoria e assolutamente paragonabile a quello della concorrente numero 1, la Corolla Cross, che è riuscita a primeggiare soltanto per un decimo. La prova dimostra che l'ibrido Honda ha grande carattere e regala a questo SUV una spinta vivace, a tratti grintosa. Un ibrido in serie che si fa apprezzare non solo per la gradevolezza di guida ma anche per prestazioni interessanti. Ora vediamo come il fatto di avere un motore elettrico di trazione e un termico che funge essenzialmente dal generatore mi va a influenzare la capacità di riprendere velocità di questa ZR-V con il nostro test 80-120 via giù tutto. Nel primo tentativo la ZR-V ha strappato un tempone pari a 5 secondi e 4, un risultato strepitoso addirittura migliore di quello già di per sé ottimo che ha ottenuto in media la Corolla Cross Hybrid. Nei tentativi successivi però l'ibrido Honda non è più riuscito a ripetersi con i valori che sono andati via via allungandosi e questo spiega un valore medio della ZR-V sicuramente buono ma non eccezionale. La frenata non è la specialità delle ibride perché a volte possono un po' andare in conflitto tra quella che è la frenata rigenerativa e quella che è poi la frenata vera e propria. Vediamo come si comporta questa Honda, giù tutto, al contrario via. In media la nostra Honda ha avuto bisogno di poco più di 40 metri per un completo arresto da 100 orari, un valore nella norma, la solle ideale è proprio fissata a 40 metri ma alcune concorrenti, soprattutto quelle su piattaforma MQB del gruppo Volkswagen, riescono a essere più incisive in questo test con risultati anche inferiori ai 38 metri. Il passaggio tra la frenata rigenerativa e quella vera e propria in ogni caso è inavvertibile sulla Honda e il pedale è ben modulabile. È fortunata questa ZRV non solo perché ha ereditato un powertrain ibrido in serie della Civic che si guida davvero bene, ma anche perché ha preso la sua stessa piattaforma meccanica e la nuova Civic l'abbiamo apprezzata tantissimo qui nelle nostre prove strumentali proprio per la sua piacevolezza di guida che va un pochino oltre quella delle concorrenti a trazione anteriore. Ci sono concorrenti a trazione anteriore che per carità si guidano bene, sono sicure e sincere nel comportamento. La Civic lo è ancora di più, cioè inizia a essere quasi divertente da guidare, davvero bella reattiva in una maniera sorprendente per quello che è il segmento. Tutte queste stesse cose valgono anche per la ZRV che è la sua variante a ruote alte, quindi si guida comunque meglio la Civic che è il motivo per cui io prenderei comunque lei. Però effettivamente trovatevi un suvettino compatto di segmento C che si guida così bene, così bello reattivo, così coinvolgente quasi da guidare. Di solito sono piuttosto insipidi quando non iniziano a rollare diventano addirittura magari poco gradevoli. In questo caso invece nulla di tutto questo, anche perché lo sterzo anche lui è proprio simile a quello della Civic, quindi abbiamo una bella consistenza, ma non solo, anche una bella precisione e una velocità più che soddisfacente per un crossover. Tutte caratteristiche rare nelle auto a ruote alte di segmento C, per trovare qualcosa di simile bisogna scomodare, che ne so, una Mazda CX30 oppure una Formentor almeno con le motorizzazioni più tranquille. Ecco, la ZRV se la batte con queste due eccellenze nel mondo crossover se si parla di piacevolezza di guida. Ma siamo alla nostra prova parcheggio e quindi vediamo come avviene la manovra su questa Honda compatta, retro, giù tutto di sterzo, raggio di sterzo buono per un'auto a motore trasversale, dimensioni piuttosto compatte, siamo sotto i 4,60 m, quindi il parcheggio avviene in maniera piuttosto semplice. Attenzione però alla retrocamera che c'è, però l'immagine che ci restituisce non solo non è molto ampia, ma è anche piuttosto sgranata, con una qualità non a livello di un'auto contemporanea, si poteva forse fare uno sforzo in più. Visibilità, non buona dietro, montanti giganteschi, avete voluto la crossover vi beccate l'unotto piccolino, perché fa figo avere il suvettino, però poi la pagate a livello di visibilità, davanti i giapponesi fanno scuola ancora una volta. Bravissimi, montanti esili, non molto slanciati ma comunque sottili, compatti, che non fanno blocco col grande specchio che infatti è incernierato allo sportello e non al montante, quindi riesco a avere una terza luce o comunque una visibilità molto buona anche nelle svolte più strette a prova di pedone invisibile diciamo. Chi sceglie un'auto come questa lo fa anche però per i consumi, visto che l'ibrido Ehev di Honda si è sempre comportato bene in maniera sorprendente nel nostro ciclo di rilevazioni in condizioni reali, il temibile cappio, vediamo se questa ZRV riesce a ripetersi. L'ibrido Honda Ehev si conferma uno dei migliori sulla piazza in assoluto, non solo in termini di prestazioni ma anche quando occorre contenere al massimo i consumi. Nella nostra prova che prevede ampi tratti autostradali a 130 orari ma i teneri con i full hybrid è riuscito a strappare una media superiore ai 17 chilometri litro. Questo significa che anche nei lunghi trasferimenti non soffre troppo le alte velocità costanti e in ogni caso se si rimane in ambito urbano si riescono a portare a casa anche medie da record superiori ai 25 chilometri litro. Le Honda di nuova generazione ibride hanno prezzi d'attacco piuttosto importanti, vediamo in questo caso la ZRV come si colloca e se si riesce a risparmiare qualcosa. Come le altre nuove Honda anche la ZRV sconta il fatto di offrire un solo tipo di motorizzazione, un ibrido prestazionale e super efficiente come abbiamo visto ma sicuramente anche complesso dal punto di vista tecnologico e quindi costoso, i prezzi si adeguano di conseguenza. La versione base, già piuttosto ricca per la verità dal punto di vista degli accessori, parte da oltre 42.000 euro ma per avere una versione top di gamma come la nostra ne servono più di 45. Con un'auto da rottamare le cifre possono scendere di 8.000 euro abbondanti ma solo in presenza di incentivi statali e contributi Honda. Insomma si sente la mancanza a listino di una motorizzazione non ibrida più semplice e snella che avrebbe portato con sé un listino sicuramente più accessibile. E a voi ha convinto questa ZRV? Prendereste lei oppure la sua cerrima nemica la Toyota Corolla Cross? Se vi va raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo al prossimo test rigorosamente strumentare. Vi lascio ai pro, soprattutto ai contro e a tutti i voti del pagellone. Avrà preso insufficienze? Bah, le auto perfette non esistono. E a tutti i voti del pagellone. Avrà preso insufficienze? Bah, le auto perfette non esistono. E a tutti i voti del pagellone. Avrà preso insufficienze? Bah, le auto perfette non esistono.